Iniziamo applicando un ombretto viola nella palpebra mobile. Utilizza un ombretto marrone con dei riflessi dorati nella piega dell'occhio e lo sfumo verso l'alto. Applico un ombretto bianco nell'arcata sopraccigliare e sfumo. Uso un illuminante nell'angolo interno dell'occhio. Utilizza lo stesso viola di prima sia nell'area macilare inferiore sia all'interno dell'occhio. Sfumo il marrone messo all'inizio anche sotto in modo da definire l'occhio. Con una matita nera inizia a disegnare un'assurda iraniatela, non troppo perfetta. Sfumo. 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 Grazie a tutti. Prendo poi il viola usato all'inizio e lo applico sulle labbra. Il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto. Un bacione, ciao!